bella a tutti raga e benvenuti in questo nuovo video cioè più che video nel backstage siccome non sono decorato adesso sto andando accorato e ci vediamo quindi sulla location del video ciao oggi si gira tipi da benzinaio saluto noi siamo che siamo agi siamo saluta tarma ciao la spia rossa della benzina ci conviene che ci fermiamo no che cosa sta ancora la benzina se incontrate questo benzinaio non fidatevi di lui scappate è un maniaco pazzo pervertito brutto avvicinati per la faccia da balena quella cosa ho trovato la coppa per aver ucciso più mosche nel mondo ci fanno anche i campionati di uccidi le mosche ma sta familiarizzando con il benzinale perché vuole lavorare qua e vuole la buona parola cioè che cosa si cela dietro il benzinaio zon 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 una cabina telefonica ah tra l'altro non c'è neanche il telefono quindi proprio bellissimo ho trovato è un'altra scaricata la batteria della fotocamera quindi momento di pausa Cazzeggio time diciamo Scusi buon uomo Mi fai il pieno per favore Vigilanza è arrivata la vigilanza A vigilare se stavo facendo bene la scena Istituto Meridionale